È stata per me l'occasione per conoscere davvero Tiziano Terzani. È un testo dove io ho incontrato un Terzani di grandissima simpatia umana, di grande ironia, con una distanza dalla materia che lui narra, attraverso la quale esercita anche uno spirito critico, con per l'appunto questa grande simpatia e questa grande ironia. Questo però ci regala anche un'analisi profonda che lui fa del rapporto con il tempo, del rapporto con gli altri, perché la dimensione del viaggio, la sfida di questa profezia che gli fa l'Indovino, lo costringe appunto ad affrontare una dimensione del viaggio e del vivere il tempo che lo riporta a confronto con gli altri. Il rapporto degli asiatici con il destino era come con una cosa fissa, ormai ineliminabile, cioè inevitabile. E anche se il destino qualcuno gli diceva tu morirai a 50 anni, questi finivano per morire a 50 anni perché ci credevano talmente che morivano sul serio. Insomma, era una cosa, era un'analisi la sua per vedere come siamo diversi noi occidentali da quelli orientali. Era un ruolo sociale, un ruolo sociale che però aveva qualcosa a che fare anche col destino. Io tutti gli hanno detto subito per prima cosa, io abbiamo, purtroppo devo dire una cosa molto triste, mi dispiace molto ma è evidente, lei non diventerà mai ricco. Ah, ha detto Tiziano, ne ho mai provato e questi l'avevano capito. L'Intel San Paolo a Torino, nell'auditorium del Grattacielo, produce da molti anni, realizza e ospita eventi culturali. È sicuramente una vocazione che è propria nostra, ma che risente anche del luogo in cui realizziamo questi appuntamenti. L'auditorium del Grattacielo è stato pensato da Terenzo Piano come un luogo in cui generare una permeabilità e anche un'offerta per la vita culturale della città. Questi non sono i soli appuntamenti che noi ospitiamo, questi appuntamenti di cui stiamo parlando nel caso del spettacolo, del reading di Terzani, nasce sicuramente da un progetto specifico, è un progetto di coproduzione intera San Paolo con l'Italian Literary Agency ed è una lunghissima tradizione che ha contraddistinto la vita del Grattacielo, dal 2015 ad oggi. In continuazione, ogni anno abbiamo prodotto questi spettacoli inediti che poi hanno avuto una loro vita, quindi hanno circolato nei teatri italiani, in altre città. Sono aiuti, sono aiuti nel vivere questi. E questa varietà, a lui lo ha divertito tanto, lo ha stimolato moltissimo, ma proprio lo ha aiutato. E alla fine, ora in Italia, tante volte mi dicono, quando ci sono questi incontri, mi dicono, ma questi indovini che gli hanno predetto una lunga vita, una vita di 83, 87, 94 anni, è morto a 66, cioè veramente giovane, si sono sbagliati. E poi una volta un uomo si è alzato e ha detto, no, secondo me hanno avuto proprio ragione, se ne parla ancora, è qui ancora.